Onorevole Meta, il Parlamento approva il decreto pedaggi, cosa cambia per i pendolari? Cambia molto, vengono colpiti, c'è un accanimento di ravverdico contro di loro perché per la terza volta no ai treni, ci sono i tagli della finanziaria di 4 miliardi che significano meno treni e meno corse e adesso si mettono i pedaggi sulle nuove strade e pedaggi sul raccordo anulare, sulla Roma Fiumicido, sulla Salerno Reggio ma anche su alcune strade del nord, la 8 e la 9 verso i laghi, è una cosa ingiusta ieri qui Berlusconi è venuto a dirci da domani niente più polemiche riprenderemo a lavorare solo sui problemi degli italiani, non metteremo le mani nelle tasche di cittadini non è vero, l'ha fatto dopo 24 ore e la cosa che colpisce è che anche le altre componenti del centro-destra a partire da Fini, dal gruppo di Fini hanno votato questo provvedimento unico un provvedimento, ripeto, che non ce n'era davvero bisogno perché l'ANAS le risorse può prenderle dalle multe l'ultima questione, il sindaco di Roma con i parlamentari del centro-destra aveva tuonato si è piegato e si è accontentato votando contro il nostro emendamento, l'emendamento del PD di un semplice ordine del giorno che è come dire un pannicello caldo e acqua che scivola via sul marmo e non risolve nessun problema